Scuola alla carica dei 450.000 piccoli alunni tornati tra i banchi in campagna accompagnati da applausi al suono delle campanelle, ma è stato un rientro a macchia di leopardo. Tanti sindaci che hanno preferito prorogare la chiusura. Dal napoletano al casertano, dagli irpini a Salerno, passando per il sagno, la DAD resta per molti una necessità, ma tra genitori e docenti si respira un'aria di speranza e il dibattito resta aperto tra chi vuole insistere con la DAD e chi invece pensa sia giusto riprovarci in presenza. Siamo veramente felici di ricominciare e di riaccogliere i bambini in questo ennesimo primo giorno di scuola. Hanno bisogno di socializzare, loro sono i più entusiasti di tutti sicuramente. Finalmente possono rivedere i loro amici. Sono molto impaurita, come credo tutte le mamme. Da un lato siamo felici per loro che riprendono a interagire con gli amici, con tutti quanti, però c'è sempre la preoccupazione e la paura di quello che sta avvenendo. A questi ragazzi facciamoci direttamente la vaccinazione e poi mandiamo a scuola. È importante stare insieme, quindi secondo me hanno fatto bene almeno per i piccolini ad aprirle. Chiuse. Perché? Perché non è giusto, perché ci stanno troppi contagi. In Irpinia una ventina i comuni che non hanno riaperto, nove nel sagno, nei rispettivi capoluoghi, aule aperte, ma comunque non sono mancate defezioni. Nel Salernitano Cava dei Tirreni ha preferito aspettare ancora, ma mediamente l'adesione è stata alta, con ingressi scaglionati e poche criticità.